Incidente stradale questa mattina in via Papiri a Fano in direzione aeroporto. Erano circa le 8.40 quando una Polo si è scontrata con un'altra auto e successivamente si è ribaltata a causa dell'urdo contro lo spartitraffico che gli ha fatto da trampolino. La Polo, condotta da un ragazzo di 22 anni originario di Cattolica ma residente a Rimini, arrivava dalla zona di Tre Ponti ed era intenta a svoltare a sinistra verso Canale Albani su via Papiria. E' entrata in contatto per ragioni ancora in fase di accertamento con un'altra auto, una appunto, condotta da una ragazza di 25 anni di Modena che procedeva in direzione opposta, ovvero sia dal mare in direzione monte. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi ai due ragazzi alla guida che hanno riportato ferite giudicate lievi dai sanitari del pronto soccorso del Santa Croce di Fano dove i due sono stati trasportati. La prognogi è risultata di 1 e 4 giorni. Presenti sul posto inoltre due pattuglie della Polizia Locale di Fano, una per regolamentare la viabilità ed una per i rilievi di legge. Grazie a tutti!